Una rivoluzione nel mondo del lavoro dei medici e in particolare dei medici specializzanti? Ho ricevuto questo messaggio su Instagram in cui questa persona mi chiedeva maggiori notizie e maggiori informazioni rispetto alla possibilità per gli specializzanti di lavorare nel privato convenzionato. In particolare questa persona si era già informata presso un'associazione di rappresentanza e un altro collega. La parte importante è questa. Forse non ne parla nessuno perché è in via sperimentale fino alla fine del 2025 o forse non si può, però mi piacerebbe avere un chiarimento. La legge è il decreto legge del 2 marzo 2024, nello specifico l'articolo 44 quater. Grazie, mi scuso per il disturbo. Io dico che quello che posso fare è parlarne, però che mi servirebbero gli screen, visto che ha detto di aver scritto direttamente anche a FNOMCEO. Al che mi invia il disegno di legge e in particolare questo adesso poi ci arriviamo, lo vediamo più in grande. Ecco qua, questa è la risposta dei dossier senato, decreto bla bla bla, legislativo che mi dice, ok, della FNOMCEO. Infine il comma 2, anch'esso introdotto dalla Camera, modifica un regime sperimentale valido fino al 31 dicembre 2025 estendendo la possibilità prevista dalla normativa vigente di assunzione di incarichi libero professionali anche di collaborazione e coordinata continuativa da parte dei medici in formazione specialistica presso tutti i servizi sanitari e non più soltanto presso i servizi di emergenza e urgenza ospedaliere dell'SSN, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione. Successivamente mi allega anche la conversazione avuta con un'associazione di rappresentanza che non cito non perché non voglia dare credito ma per evitare qualsiasi problema. Ovviamente so che sono seguito da tanti loro rappresentanti, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, specificare eccetera eccetera, può farlo benissimo qui pubblicamente nei commenti. Vi riassumo la conversazione, sostanzialmente dice questa associazione di rappresentanza sì, è 100% compatibile. Ecco qua, viene proprio chiesto, questa è la conversazione con l'associazione di rappresentanza. Quindi si può durante la specializzazione lavorare in strutture private accreditate con l'SSN, centri riabilitativi, cliniche, psichiatriche eccetera. Mi fareste un grande favore, bla bla bla, 100% compatibile, ne ho mille prologhe. 100% che durante la specializzazione è possibile lavorare in strutture private accreditate con il pubblico, giusto? Sì, perfetto, grazie mille. Non finisce qua, mi allega anche, ecco qui, ovviamente l'ho avvisato che avrei fatto questo video, attenzione, voglio specificare, cioè non è che sto usando una conversazione privata, ho specificato, ho detto faccio il video come vi ho fatto vedere sopra, avrei bisogno però degli screen, quindi è la persona che mi ha scritto, di cui ovviamente mantengo riservatissima la fonte, però è consapevole che avrei fatto questo video, perciò sì, penso sì, ho una regolamentazione entrata in vigore di recente, questa è la posizione di un collega, anche lui molto, o lei, una collega o un collega, lasciamo aperto a tutto, molto conosciuta, ok? E giustamente la persona che mi ha scritto, quindi ecco, mi scuso per il disturbo e per il numero di messaggi che le ho inviato, però mi sembra molto strano che non si parli di questa legge che sembra valida e che consentirebbe agli specializzanti di lavorare in strutture sanitarie anche private accreditate con l'SSN, ovviamente al di fuori dell'orario di formazione, perché questo permetterebbe di poter lavorare durante la specializzazione in libero professionale, eccetera, eccetera. Ecco qui come continua, perché questo permetterebbe appunto di poter lavorare durante la specializzazione in libero professione come scritto nella legge, in centri di abitative, cliniche psichiatriche, eccetera, eccetera. A mio avviso sarebbe una svolta, e direi proprio di sì, grazie in anticipo e le auguro una buona giornata. Qui poi, vabbè, ve l'accorcio, ho chiesto comunque anche la mail ufficiale inviata alla Fenomceo, e qui viene detto, no, la persona non vuole mandarla perché ci sono i dati personali, in più nella mail c'è scritto una frase sibillina, quindi preferirebbe che non venisse divulgata. Ecco qui, non siamo molto esperti di queste cose, non vorremmo rischiare la domanda fatta alla Fenomceo era inerente a dei chiaramenti sulla legge del 2 marzo 2024, bla bla bla, ok, e a rispondere è stato l'ufficio legislativo della Fenomceo di Roma. Ci eravamo informati perché un datore di lavoro aveva detto che si poteva con questa nuova legge lavorare in queste strutture anche da specializzanti. A noi faceva piacere che si informasse tutto qui, bla bla bla, e poi, ok, cose, poi ci sono comunque saluti. Io riporto in maniera giornalistica quello che è successo e i dati che mi sono stati forniti. e lascio aperto il tutto. Perché non se ne parla? È vero questo? Abbiamo cambiato così radicalmente la formazione? E se è vero, perché oggi, ad oggi che è il 27 di ottobre del 2024, non si è fatta un'enorme pubblicità di questo, visto che è veramente qualcosa che cambia in maniera radicale, il mondo del lavoro, cambierebbe, perché il condizionale è d'obbligo, il lavoro medico e la carriera medica? Prego, a voi le risposte.